ragazzi prima di cominciare questo video volevo condividere con voi una delusione mi ero preparato un sabato da leoni perché alle 15 c'era juventus lazio poi derby di milano inter milan e a seguire genova napoli un sabato straordinario con una bella frittatona di cipolle come fantozzi con birra gelata e rutto libero e nel pomeriggio anche qualcos'altro una pericena insomma tanto calcio tanto tanta serie a e invece e invece e invece no invece no perché ci sarà la festa l'in compleanno di mia nipote sono contentissimo è per carità mia nipote gli voglio un bene dell'anima però se l'avesse fatta di domenica mio fratello non non avrebbe fatto un torto a nessuno a nessuno mannaggia a mio fratello di domenica poi non è che ci fossero tutte queste grandi partite soltanto la sera giocava alla mia roma quindi a pranzo magari poteva organizzare questa festa invece no mi ha dovuto fare la festa di mia nipote che l'amo tantissimo di sabato e vabbè ragazzi vorrà dire che mi guarderò la partita in mezzo a tutta la gente userò i telefonini cellulari però non mancherò di fare i miei commenti e le mie disamine disamine e le mie opinioni su queste partite straordinarie juventus lazio la vedrò sicuramente perché alle 15 inter milan starò per andare e genoa napoli me la vedrò davanti a tutti quindi fatto questo preambolo che già avrai chiuso il video non lo vedrai più andrà andiamo a parlare del best fifa man's player pure in inglese o so parlare mi sono proprio aggiornato sono mi sono evoluto ma di che però mi sono mi sono dimenticato di salutarvi ma porca di quella miseria benvenuti a tutti ciao ciao dal vostro enrico caffarelli che ti invita a supportare questo video con un bel like con un bel mi piace ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto non ti costa nulla iscriverti e basta cliccare su iscrizione e basta finisce là la storia almeno diventiamo amici fraterni e attiva alla campanellina se proprio puoi fare 31 anzi no se puoi fare 31 iscriviti anche sul mio profilo iscriviti seguimi sul mio profilo instagram link in descrizione mamma mia che casino che ho fatto ragazzi sono passati già quasi tre minuti ho fatto un minestrone merito di non essere seguito faccio un rewind non seguitemi più perché sono troppo lezioso come alcune come qualche calciatore talentuoso ma andiamo ma che cavolo sto dicendo non lo taglio il video però non lo taglio la stagione esaltante del napoli con la vittoria del terzo scudetto della storia è stata certificata anche dalla presenza di due calciatori azzurri tra i possibili vincitori del premio the best fifa mens player quindi un riconoscimento importantissimo a livello mondiale stiamo sui livelli del pallone d'oro ci sono anche due calciatori del napoli che portano diciamo in auge la prestazione l'altra dello scorso anno della del napoli di spalletti dobbiamo dirlo e del napoli di spalletti ma anche di laurentis di giuntoli ma soprattutto dei napoletani che staranno guardando questo video anzi non lo so se ancora avranno proseguito a vederlo è una vittoria dei napoletani che hanno tra i dodici se non erro dodici scusate dodici dodici candidati per la vittoria finale e questi candidati ve li vado ad elencare perché è giusto che sappiamo chi siano in toto non soltanto i due calciatori del napoli sono giulian alvarez argentino del manchester city marcello brozovic croato del al nasdre kevin de bruin belga del manchester city icai gundogan tedesco del barcelona detto pure barcelona erling holland holland del manchester city norvegese rodri lo spagnolo del manchester city oh per i napoletani ooooh kubiccia kubiccia kubarascheglia georgiano del napoli è uno dei candidati alla vittoria finale kylian bappé francese del paris san germain sua maestà lionel messi dell'inter non di milano ma di miami declan rice declan rice dell'inglese dell'arsenal bernardo silva portoghese del manchester city e per i napoletani sempre victor osiman nigeriano del napoli quindi i due calciatori napoletani si contenderanno il la vittoria finale del best fifa man's player praticamente il calciatore migliore al mondo dopo il pallone d'oro no il premio andrà al miglior giocatore dell'anno solare con i voti che arrivano da rappresentanti dei media da commissari tecnici e dai capitani delle nazionali l'ultima edizione è stata vinta da qualcuno che non ha mai vinto nulla lionel messi perciò stiamo parlando di una un premio che andrà a sottolineare la stagione di uno di questi grandissimi calciatori e tra questi ci sono i due giocatori del napoli che hanno disputato una stagione greggia e che molto probabilmente si appresteranno a rifare ancora una stagione del genere se lo augurano soprattutto i tifosi del napoli che appunto giocherà sempre appunto dico appunto appunto contro il genoa sabato sera e vedremo se appunto l'altra volta appunto virgola riusciranno a ricominciare a vincere le gare della serie a per poter ritrionfare ritrionfare si dice si ritrionfare un'altra volta nel campionato italiano però quest'anno c'è l'inter e il milan che sono molto attrezzate e sono avversarie molto difficili per la squadra di rudy garzia l'abbiamo vista all'inizio però ancora il campionato è lungo dopo questo pastrocchio ti invito a non iscriverti più non ti iscrivere lascia perdere non ti iscrivere abbiamo scherzato abbiamo lascia perdere come non detto non mettere like non mettere niente non mi seguire su instagram e speriamo che il prossimo video lo faccio più in maniera migliore perché sono stato proprio una chiavica come si dice a bolzano ciao a tutti da Enrico Caffarelli però vi voglio bene questo è assodato ciao 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 ciao